Se vuoi creare titoli tipo questi con Filmora 9, continuo a guardare. Ben ritrovati immaginativi. L'episodio di oggi tratta uno dei temi più gettonati del canale, i tutorial su Filmora, in particolare nella versione 9. L'argomento titoli mi sta particolarmente a cuore perché nell'era dei social media, video e grafica sono diventati inscindibili. In particolare Facebook e YouTube ci hanno abituati a guardare i video senza ascoltarli e se tra di voi c'è qualcuno che ancora attiva l'audio ogni volta che guarda un video lo lasci iscritto sotto perché è ormai un esemplare in via d'estinzione. Come prima cosa vediamo insieme i modelli. Clicca l'attila e sopra e ti si apre la finestra. Gli opener sono quelli in cui Filmora inserisce una grafica di sottofondo. I titoli sono quelli grandi, centrati, utilizzati tradizionalmente per l'apertura di un filmato. I sottopancia sono quelli in cui viene scritto il nome e il titolo di chi sta parlando. Poi ci sono i sottotitoli, un pochino anonimi per trascrivere parola per parola ciò che lo speaker sta dicendo. E poi ci sono i titoli finali, quelli che scorrono. Come vedi i modelli si ispirano a tradizione consolidata della televisione e del cinema. Non ci sono invece titoli come questi che siamo abituati a vedere nei social media e sono assolutamente funzionali per dare peso, visibilità e risalto alle parole. Quindi iniziamo. Scegli un modello qualsiasi, tanto dobbiamo cancellare tutto. Clicca direttamente su avanzate in modo che ti si apra questa finestra che è simile a Filmora nella versione precedente e ti dà un quadro completo di tutti i comandi con cui poter lavorare. Seleziona ogni cosa e col tastino cestino dell'immondizia cancella tutto. Con lo strumento là in alto disegna un rettangolo molto allungato. Purtroppo Filmora ha deciso che il rettangolo deve avere gli angoli smussati. Il modo per aggirare questo problema è importare un file png creato in un altro programma, ma questo sarà l'argomento di un altro tutorial. Una volta disegnato nel tab laterale scegli il colore che preferisci ed eventualmente un colore per il bordo e un'ombreggiatura, ma anche no. Scrivi il tuo testo e là in alto puoi andare a personalizzare font, dimensione e spessore del tuo carattere. Io scelgo questo, ma tu vai a importare la font che utilizzi d'abitudine e soprattutto quella in sintonia con la tua immagine coordinata. Nel tab a lato, più sotto, puoi andare a personalizzare il colore, il bordo e come sempre eventualmente l'ombreggiatura. Cambi tab e a questo punto serve un'animazione. Clicca sul tab e vedi che sono davvero tantissime. Puoi sperimentare quanto vuoi, ma in questo contesto a mio avviso sono davvero poche quelle che possono stare bene. Quindi io ti consiglio inserisci da sinistra e da sotto. Applichi l'animazione, riguarda il tuo video ma ti accorgerai subito che l'animazione è molto lunga. Questo significa che il testo ci mette tanto tempo ad essere completato, si sofferma molto poco sul testo completo e quindi risulta poco leggibile e ci mette tanto tempo a scomparire. Per accorciare l'animazione basta andare col mouse esattamente su quel simbolo a forma di parentesi quadra e trascinarlo verso l'esterno della clip. Se puoi e vuoi allungare nuovamente l'animazione lo trascini verso l'interno della clip. Stessa cosa devi fare all'animazione in uscita. Quindi chiudi la finestra delle impostazioni avanzate, ritorna al progetto principale e riguarda la tua grafica più di una volta. Devi essere assolutamente sicuro che il tuo testo non sia troppo corto e quindi risulti faticosamente leggibile o troppo lungo e risulti invece noioso. Abbiamo fatto un gran lavoro per una sola linea di testo ma ti assicuro che il resto del lavoro procederà in modo molto più spedito perché copieremo e incolleremo le stesse grafiche. Nota bene che io prima di iniziare il lavoro ho suddiviso la mia frase in linee. Questo secondo me è il modo più preciso e più flessibile per lavorare con testi e grafiche. A questo punto dobbiamo duplicare grafica e testo per velocizzare il lavoro. Quindi seleziona una clip, tasto destro copia, posiziona la barra rossa alla fine della clip, clicca in colla e fallo un'altra volta per creare le tre grafiche. Semplicemente trascinando col mouse porta una grafica sopra quell'altra in modo da metterle tutte in colonna. I miei testi sono uno sopra quell'altro. Faccio doppio clic sulla seconda linea di testo, impostazioni avanzate e non vedo in questo momento il mio testo perché sono uno sovrapposto a quell'altro. Però se lo seleziono e lo trascino verso il basso vedete che è duplicato. A questo punto modifico il testo della mia grafica. Salvo e chiudo, faccio la stessa cosa per la terza linea di testo. Doppio clic, impostazioni avanzate, modifica. Poi personalmente a me non piace che le tre linee di testo appaiano tutte contemporaneamente. Quindi torno nella finestra principale, sulla timeline, ritardo l'ingresso della seconda linea e ritardo ulteriormente l'ingresso della terza linea di testo. So che è il terrore di dover rifare tutto questo lavoro per ogni grafica e per ogni progetto ma c'è un modo semplicissimo. Clicca sulla prima linea di testo, vai nelle impostazioni avanzate, in basso a sinistra salva come preset. Dai un nome e ricordati anche di assegnare un numero perché salveremo come preset distinti la prima, la seconda e la terza linea di testo. Quindi fai la stessa cosa per la seconda grafica e la terza grafica. La prossima volta, sia all'interno di questo progetto ma anche in progetti futuri, quando devi rifare questo tipo di grafica, non devi fare altro che cliccare su T, all'interno della voce personalizza, ritrovi le tue tre grafiche. Una volta che le tue grafiche sono sulla timeline, aggiusti la durata. Per andare a modificare il testo, fai doppio clic e senza aprire le impostazioni avanzate, direttamente in quella casella puoi inserire il nuovo testo. Usare dei testi in grafica belli e personali migliorano la qualità del tuo video e sicuramente aumentano anche la comprensibilità, soprattutto su quei social che vengono notoriamente visti ma non ascoltati. Si può andare anche oltre nella personalizzazione dei titoli, ad esempio utilizzando due animazioni diverse per il testo e per la grafica di sfondo, oppure inserendo dei file png come sfondo e creare per esempio dei rettangoli dai bordi squadrati, oppure una pennellata che è in sintonia con il vostro logo. Per oggi era veramente abbastanza questo, altrimenti poi nessuno arrivava alla fine del tutorial, ma se siete interessati lasciatemelo scritto nei vostri commenti. Il consiglio finale è quello di dosare le parole con il contagocce. Primo perché ogni frase e ogni linea deve avere all'incirca lo stesso numero di lettere del modello originale, altrimenti l'impaginazione si viene a perdere. Secondo perché i testi a schermo sono di difficile lettura e quindi è meglio essere concisi per essere anche incisivi. Se sei interessato al tema video e social media e post-produzione video, iscriviti al canale perché troverai sempre argomenti di questo genere. Lasciami il tuo indirizzo qui a fianco che ogni mese ti invio la newsletter su questi temi e anche il nuovissimo minicorso gratuito Decolla con YouTube. E quindi metti in immagine la tua storia e crea la visibilità che meriti.